Buongiorno a tutte e tutti, sono Chiara Burberi, Presidente e Amministratore Delegato di Redoc.com. Redoc.com è una piattaforma di didattica digitale dedicata alle competenze STEM, meglio STEAM, quindi STEAM, detta con l'accento inglese, quindi Science, Technology, Engineering, Mathematics with Arts. Queste sono le competenze di base, alla base di un futuro sostenibile. In effetti si parla tantissimo di sostenibilità, di Agenda 2030 dell'ONU. Io sono convinta che sono due i goal fondamentali, veramente alla base del nostro futuro. L'istruzione di qualità, o meglio l'educazione di qualità, goal 4, e la parità di genere, goal 5. Questi due goal sono alla base di un futuro sostenibile perché sono la garanzia di un apprendimento costante e continuo per le ragazze, per i ragazzi, a tutte le età, adulti compresi, il famoso lifelong learning, e ovviamente la parità di genere è una grande ricchezza che dobbiamo portare nelle famiglie, nelle scuole, nelle aziende, nel quotidiano. Ecco, noi di Redoc cosa stiamo facendo? Stiamo cercando di offrire una piattaforma di education innovativa, ricca di materiali, di contenuti che possano davvero essere interessanti e attraenti per i nostri ragazzi e ragazze. a partire dai primi anni, a partire addirittura dalla scuola dell'infanzia, e accompagnarli nella scuola primaria, secondaria, di primo e secondo grado, fino all'università. Perché siamo diversi? Siamo diversi per i nostri contenuti innovativi, sono digitali, ma sono misurati sulle esigenze degli studenti. Ecco, per noi gli studenti sono i nostri clienti. Certo, noi lavoriamo per i docenti, ma lavoriamo soprattutto perché i ragazzi e le ragazze, i bambini e le bambine siano attratti, incentivati ad imparare. Abbiano il piacere dell'apprendimento e quindi la gamification, i quiz, i diplomi, gli avatar, le gare, le classifiche e soprattutto siano liberi di imparare non solo dove, quando, come vogliono, quindi con i vari device, ma soprattutto abbiano l'opportunità di imparare perché questa è una piattaforma che si adatta a tutti gli stili e alle preferenze di apprendimento. Come vi dicevo, accompagniamo i ragazzi e le ragazze fin dall'infanzia attraverso tutte le scuole fino addirittura all'inizio dell'università, la famosa formazione terziaria, ma abbiamo una forte connotazione STEM, quindi una forte connotazione delle competenze di base. Noi diciamo leggere, scrivere e far di conto, quindi italiano, matematica, inglese, quindi le competenze che sono la base di ogni apprendimento. E naturalmente offriamo agli studenti e alle studentesse anche dei contenuti non classici dei programmi scolastici, ma di grandissima attualità e di grande interesse. Quindi tutto il tema dell'educazione civica, della sostenibilità dell'ambiente e anche naturalmente dell'educazione finanziaria. In particolare per l'educazione finanziaria, un'sezione che stiamo costantemente arricchendo, ultime nate sono proprio delle lezioni sul tema rischio, prevenzione e assicurazione. Anche qua noi cerchiamo di raccontare l'educazione finanziaria in un modo diverso, con linguaggio naturale, con cartoni animati, con brevi video, con tante interviste che facciano capire ai ragazzi e alle ragazze la concretezza, alla realtà quotidiana di questa materia. E da ultimo naturalmente mi piace ricordare appunto la gamification applicata all'educazione finanziaria. Per il mese dell'educazione finanziaria siamo nel calendario delle attività proprio con una gara online. Una gara online che sarà libera, gratuita, aperta a tutti. Apriremo tutte le sezioni di matematica, statistica ed educazione finanziaria a vantaggio di studenti, docenti e genitori, quindi di tutte le età, dal 4 al 29 ottobre. Per festeggiare questi argomenti imparando, imparando costantemente attraverso il gioco. Arrivederci.